Ieri la posa della prima travata della bretella di Contrada Bucceri, questo ponte fra San Giovanni di Tiatino e Cepagatti. Oggi siamo nella comune di San Giovanni di Tiatino e il sindaco ci espone le sue perplessità legate non solo e non tanto ad un'opera comunque, lei dice, progettata dieci anni fa e quindi in qualche modo antistorica rispetto all'evoluzione urbanistica del territorio, in particolare per la presenza di Ikea, ma un'opera soprattutto che potrebbe aggravare le problematiche a meno che non si intervenga per esempio sulla uscita della casella autostradale. Intanto credo che un'opera di questo tipo concepita oggi avrebbe quantomeno avuto una valutazione ambientale strategica, la VAS, che è una valutazione che si fa per la realizzazione di tutte le opere. E' chiaro che un elemento di criticità è che questa arteria immette ulteriormente traffico nelle rotatorie di Ikea e non stiamo parlando di traffico superficiale, leggero, sono camion che andranno a transitare direttamente in quelle rotatorie perché vi faccio notare un po' particolare che il traffico che va a andare in direzione verso Ikei va direttamente sull'assa attrezzata e non entra dentro le rotatorie. Chi deve andare verso Pescara, quindi sull'assa attrezzata, o chi deve andare a prendere l'autostrada deve comunque andare nel rotatorio di Pescara perché non è previsto lo svingolo diretto sull'assa attrezzata. Allora, è evidente che quelle rotatorie continueranno ad avere sempre e comunque traffico in accesso. L'iniziativa potrebbe essere quella di ridisegnare l'uscita della casella autostradale, l'abbiamo rappresentata a Livica, che è l'organismo di controllo e tutela della sicurezza del tronco autostradale. Fra due anni scade la convenzione all'ente gestore, noi ci metteremo in moto con il nostro programma di rivisitazione del piano regolatore. Mi risulta che sulle uscite di Dragonara c'è anche una valutazione negativa, il fatto che sono troppo vicine le rotatorie al casello. Se sintasi il casello la fila va anche in autostrada. Questo potrebbe essere risolto rissegnando una nuova uscita in raccordo direttamente sull'assa attrezzata, così come fa l'autostrada, da dove ci sono degli scorrimenti veloci per agevolare il traffico verso e da per le città.